Nessuno pendei vaccinale previsto nel weekend nel Salernitano, a comunicarlo l'ASL, che ha fatto sapere in una nota che le inoculazioni continueranno comunque regolarmente in tutti gli hub, mantenendo il ritmo di 10.000 iniezioni giornaliere. Anche in costiera amalfitana, a Cetara, ha aperto un centro vaccinale nella palestra della scuola. Speriamo di riuscire a vaccinare tutti quanti, tutti i nostri concittadini nell'arco della prima settimana di giugno. Andiamo bene, qua è un centro vaccinale, l'hanno fatto due giorni solo, va bene, va bene qua. Bisogna far ripartire tutto, perché senza vaccinazione non si può ripartire. È importante per tutti, che facciamo? Intanto a Salerno si combatte anche sul possibile impatto del Covid sulle imprese per evitare che cadano in mano alla malavita. Protocollo d'intesa tra forze dell'Ordine e Camera di Commercio per la legalità e la trasparenza, grazie alla piattaforma Rex Regional Explorer. Significa sicuramente avere degli strumenti molto molto rilevanti ai fini delle indagini e quindi a poter intervenire in modo anche tempestivo per fronteggiare anche i fini antimafia, evidentemente, soprattutto a quei fini. Noi dobbiamo far dare gli strumenti perché sotto gli occhi esperti della Guardia di Finanza possono emergere immediatamente, ai loro occhi, delle anomalie che in qualche maniera, senza pregiudizi, però andrebbero controllate.